E buon pomeriggio, buon pomeriggio, ben ritrovati ancora in diretta sulle fonti TV, sono esattamente le 14 e 30 e tra l'altro prosegue la settimana di le fonti Asset Management Week e quindi in questo segmento parleremo di investimenti tematici, quali sono i trend più interessanti, quindi vado subito a presentarvi i nostri panelist, Alessandro Arrighi, Head of Freetail Distributors Italy GAM, Diego Saltarella, Senior Relationship Manager Asset Management Kairos, Giancarlo Sandrin, Country Head Legal and General e Pier Giacomo Braganti, Director Research Wisdom Tree. Buon pomeriggio a tutti e grazie per essere con noi. Buon pomeriggio. Grazie, buon pomeriggio. Allora Saltarella, parto appunto con lei, gli investimenti tematici sono diventati sempre più importanti e Kairos ha lanciato alcune strategie che abbracciano questo nuovo stile di investimento, uno su tutti ci incuriosisce particolarmente, lo troviamo tra l'altro abbastanza innovativo, stiamo parlando della nuova strategia di investimento che riguarda i millennials, quali sono i trend naturalmente riscontrati che sottendono a questa strategia di investimento? Buongiorno a tutti e direi che c'è un macro cappello che raccoglie un po' tutte le novità che abbiamo lanciato anche in tema di novità che ha fondi e quindi anche di fondi tematici che è quello del mondo ESG, quindi questo macro tema diciamo sul quale abbiamo costruito le varie strategie. Per quanto riguarda i millennials che appartiene appunto a questo macro tema del mondo ESG, l'abbiamo voluto affrontare dal punto di vista geografico, con una connotazione frattamente e poi ci piaceva particolarmente perché i millennials che poi, giusto per avere dei perimetri comuni, sono tutte quelle persone nate tra l'80 e il 2000, qualcuno fa qualcosa meno, il 95, insomma questo viene meglio e che oggi come oggi sono sicuramente il target di clientela dei consumatori più interessanti, innanzitutto perché sono il più numeroso già adesso perché parliamo intorno del 30% della popolazione mondiale appartiene a questo nucleo e poi soprattutto perché sono quelli che hanno una potenziale deduzione più ampia, sia in termini di numeri che in termini anche di potenzialità di consumo perché sono in quella fascia di età dalla quale è previsto magari una crescita sia professionale quindi una crescita magari anche dei guadagni e quindi delle possibilità poi di allocarla nel consumo. È chiaro che per affrontare questo target di clientela bisogna approcciarlo con una metodologia nuova perché hanno delle caratteristiche che sono assolutamente innovative e completamente diverse da quelle della generazione precedente e soprattutto anche probabilmente da quelle future, che è quella per esempio una sostituzione della digitalizzazione, dell'essere sempre online, sono dei nativi digitali che chiaramente sono sempre connessi, fanno un po' tutto attraverso la connessione, quindi tutte le varie attività le fanno online e hanno un atteggiamento meno propenso a quello che è il possesso, quanto più il consumo e l'utilizzo, quindi sicuramente sono degli utilizzatori più che dei possessori e anche di questo bisogna tenerne conto. Sono molto attenti a quello che la salute e il benessere per esempio, a quello che è la comparazione di prezzi, l'acquisto online e magari anche gli strumenti finanziari online, quindi servizi bancari e quant'altro. E poi li paragonano, li paragonano per costi, per benefici e quant'altro. Quindi tutti questi settori poi hanno al di sotto una serie di microsettori che saranno diciamo particolarmente colpiti da tutto quello che è questo tipo di evoluzione. Parliamo quindi del settore dell'abbigliamento, del settore del food, del settore del real estate, del settore finanziario, quindi sono un insieme di settori che appartengono all'area di consumo che è particolarmente colpita da questo target di clientela che è appunto quello dei millennials. Noi così l'abbiamo approcciato, con un'attenzione particolare a quello che è, diciamo così forse, l'area geografica più interessante, che è quella americana, che riguarda questo tipo di clientela, e ci siamo approcciati proprio con l'approccio tipico del tematico che non è il settoriale puro, quindi non ha rischio magari di essere estremamente concentrato, perché proprio grazie a questa numerosità di settori che stanno al di sotto c'è la possibilità di avere ovviamente un investimento diversificato, che quindi chiaramente è anche poco correlato all'andamento di un singolo settore, perché è un tema molto più allargato. E' sicuramente un macro tema, un macro trend che ci porteremo avanti per diversi anni, perché il settore dell'Egnas è un settore che avrà una sorta di egemonia di consumo da qui probabilmente i prossimi anche dieci anni. Assolutamente sì, perché tra l'altro i millennial sono già cresciuti e ormai sicuramente sono riusciti a mettere anche qualche soldo da parte, se vogliamo dire così, quindi hanno anche una certa capacità di investimento senza alcun dubbio. Intanto vorrei rivolgere la prossima domanda da Righi. I benchmark costituiscono un elemento piuttosto importante per valutare l'andamento di tutti i segmenti. Quali sono le chiavi del successo per battere il benchmark e aumentare in maniera importante all'active share attraverso appunto la gestione attiva? Grazie a tutti, grazie per la domanda. Sicuramente il benchmark è necessario per poter dare un misurato di riferimento al cliente su quello che è il comportamento di una strategia, la scelta anche del gestore di scostarsi o meno da questo riferimento. Per quanto riguarda GAM abbiamo da sempre fatto la scelta di una gestionativa, quindi di una presa di posizione molto forte sulle convinzioni e sulla composizione dei portafogli che andiamo a gestire, quindi degli active share importanti, a volte su una quantità di titoli molto ristretto, possiamo arrivare anche a 23-25 titoli in un portafoglio, perché nascono dalla convinzione che è una metodologia, un approccio fondamentale e rigoroso, una profonda analisi e conoscenza delle aziende che abbiamo in portafoglio, quindi non un approccio speculativo diciamo di scommessa del momentum su un'azienda, ma bensì la ricerca di una conferma e una continuità di qualità e di risultato che le portano a poi avere una posizione di leadership nel proprio settore e di essere trainanti per la classe o per la tematica o l'area geografica che vogliamo rappresentare e quindi oggi sempre di più l'aspetto qualitativo e devo dire per riagganciarmi a quello che ha detto il collega, oggi l'approccio ESG, quindi il fatto di andare ad aggiungere una valutazione extra finanziaria a quello che è la qualità di una società permette di avere conferme di continuità e quindi di poter avere dei portafogli tutto sommato limitati nel numero di titoli, ma allo stesso tempo molto rappresentativi del segmento o dell'area che vogliamo avere in portafoglio. Quindi non si tratta oggi di casualità o di opportunismo, ma bensì di rigore, di qualità e di profondità dell'analisi. Quindi giusto per capirci, è meglio una diversificazione più ampia o è preferibile una concentrazione su selezionati titoli? Allora, qui ci sono più scuole di pensiero rappresentate. Nel nostro caso direi che preferiamo una concentrazione più stringente su pochi titoli, purché ovviamente siano figlie di un processo e espressione di un posizionamento di mercato da leader, ovviamente. Allora Sandrine, vengo appunto da lei, Legal & General è conosciuta soprattutto per un approccio di investimento costituito da soluzioni indicizzate. Cosa vuol dire investire in una strategia tematica con l'ITF? Buongiorno a tutti anche da parte mia. L'investimento tematico rappresenta in realtà un'evoluzione di quello che era una volta l'investimento settoriale, ma si tratta di un'evoluzione che deriva dalla trasformazione stessa di quella che è, quella che noi chiamiamo spesso l'economia reale. 20 anni fa, negli anni, fine anni 90, i settori rappresentavano un gruppo di aziende che avevano un grosso modo un business molto simile e questo settore ne individuava un po' quelli che erano i driver di crescita e degli ostacoli che erano un po' comuni a tutte queste aziende. Oggi i business aziendali sono veramente diversi tra di loro e aziende che sono nello stesso settore, quindi la vecchia nomenclatura Geeks, come dicono un po' gli addetti ai lavori, si differenziano in modo sostanziale. Pensate semplicemente a titoli come Nvidia, Microsoft o HP. Sono tutti e tre titoli che fanno parte del segmento delle tecnologie, sono tutti e tre dei titoli che negli anni 90 facevano delle componenti per il personal computer, comunque erano nella catena valore presso il computer e questo era il loro business. Oggi hanno driver di crescita completamente diversi, Nvidia sulla parte dell'intelligenza artificiale, Microsoft sul cloud, quindi hanno driver diversi. Quindi quello che è un po' la sfida che hanno oggi questi ETF è quello di trovare una corretta esposizione a dei temi che sono in continua evoluzione e che al tempo stesso necessitano di un'analisi dettagliata di quelli che sono i titoli al loro interno. Quindi poche parole, quando investo ad esempio su un ETF, abbiamo parlato del tema della sostenibilità prima, sulle rinnovabili, sono sicuro, devo essere sicuro di prendere l'intera catena del valore di questo tema, di questo megatrend. Quindi non andrò a prendere soltanto chi costruisce i pannelli solari o le paleoliche, ma anche le società che costruiscono delle componenti essenziali per queste forme di creazione delle energie rinnovabili. Quindi ad esempio quello nel nostro caso, quello che noi cerchiamo di fare è proprio andare a fare questo tipo di ricerca attiva che consenta di individuare questi titoli e poi la parte bella dell'ETF che poi il portafoglio è assolutamente trasparente, quindi riesco a capire dove vado a investire, cerco di investire in maniera uniforme per non prendere esposizione a una singola azienda ma al tema nel suo complesso e infine c'è anche il vantaggio per il cliente perché può decidere di comprarlo e venderlo direttamente sul mercato. Quindi questi sono i principali vantaggi? Assolutamente sì. Allora intanto ci ha raggiunto anche Braganti, buon pomeriggio, ben ritrovato sulle fonti tv, vorrei sentire anche il suo parere per quanto concerne gli ETF tematici e naturalmente quali sono i principali vantaggi? Come Wisdom3 abbiamo sempre puntato ad anticipare l'evoluzione dei fenomeni economici e sociali e abbiamo sempre evitato di utilizzare dei benchmark di mercato cercando di sviluppare in casa dei benchmark specifici e questo ci ha permesso in anni recenti di sviluppare e con un certo successo alcuni strumenti tematici che sono ben noti e piuttosto diffusi tra gli investitori internazionali come l'ETP sulle batterie, sul cloud computing, sulla cyber security in tempi più recenti, sull'intelligenza artificiale. Dunque senz'altro settori innovativi in una fase iniziale di sviluppo nei quali abbiamo sicuramente puntato ad anticipare l'evoluzione di questo settore allargando lo spettro non solo alle società direttamente coinvolte nella fase corrente del business ma in quelle che serviranno nel futuro. Voglio fare un esempio nel caso delle batterie. Quella delle batterie è una porzione di un ambito molto più ampio che la prospettiva di una motorizzazione basata sulla propulsione full elettrica. In questo momento la gran parte del parco automobilistico circolante nel mondo è ancora basata sul propulsore endotermico. Ci sono delle discrete quote di mercato per le vetture ibride mentre le vetture full elettriche sono ancora percentualmente una parte ridotta del parco circolante. Eppure noi abbiamo pensato che il fenomeno numericamente sia destinato ad accelerare tantissimo nei prossimi anni e non abbiamo pensato che il cavallo vincente fosse individuare la casa automobilistica o le case automobilistiche che si sarebbero contraddistinte come vincenti in termini di volumi rispetto al fenomeno del full electric ma ci siamo concentrati sulle batterie. Batterie per noi significano i produttori di batterie ma anche i produttori dei metalli spesso rari comunque con delle complessità di reperimento e di possibile evoluzione dei prezzi. Ci siamo anche concentrati su chi queste batterie le dovrà smaltire a fine vita e questo ci ha permesso di operare una diversificazione nella focalizzazione. Focalizzazione su un componente è evidente il cuore tecnologico di un'autovettura full elettriche sono le batterie allargando lo spettro ad una filiera che va dalla miniera del metallo particolare richiesto per la produzione di queste batterie fino a chi dovrà poi provvedere all'oneroso e potenzialmente inquinante fase dello smaltimento delle stesse. Devo dire che i risultati sono stati notevoli abbiamo senz'altro colpito nel segno e siamo riusciti a trasmettere questo messaggio a parecchi clienti che si sentivano quasi più confortati dall'idea di poter investire su dei business collaterali a quello core piuttosto che rincorrere i prezzi di una Tesla per fare il solito nome. Questo ragionamento può essere esteso anche al cloud computing che ha ricevuto un boost straordinario purtroppo dalla pandemia che ha cambiato il modo di lavorare, ha richiesto un'accelerazione quasi verticale dell'utilizzo del lavoro remoto e della necessità di scambio di dati, di storage di dati. Ok, per noi l'investimento tematico è proprio questo. Torno tra pochissimo da lei perché abbiamo naturalmente il tempo limitato. Intanto Saltarella vorrei farle un'altra domanda. Kairos ha lanciato proprio da poco una strategia dedicata al climate change. Esattamente quali sono i criteri di selezione dei titoli innanzitutto e poi può essere considerata una strategia di lungo periodo e quindi rappresentare un vero e proprio mega trend. Sì, assolutamente. Sono d'accordo anche con quanto è stato detto fino ad adesso su questa evoluzione dei settori. Noi in realtà come Kairos abbiamo inteso l'investimento tematico come dei trend, dei temi ad ampio spettro sotto i quali esistono una pluralità di settori, tra l'altro anche poco connessi tra loro, come si diceva prima per i millennials, dal cibo salutare ai finanziari piuttosto che perché appartengono tutti a questo target di clientela. Per quanto riguarda il climate ESG, innanzitutto climate ESG, climate già come ambito appartiene a questa categoria, quindi la prima selezione che facciamo, grazie anche alla collaborazione con un provider esterno per Sustainalytics, è quella della selezione dei titoli che possono appartenere o meno all'universo investibile del mondo ESG. All'interno di questo mondo poi noi abbiamo optato per un approccio un pochino differente rispetto anche perché da piccola società abbiamo necessità di fare le cose un pochino differenti rispetto magari ai grandi player. Abbiamo avuto una fortuna anche importante perché un ex gestore di Kairos che ha lavorato per noi per diversi anni, è stato anche uno dei soci partner iniziali della società, qualche anno fa ha lasciato l'attività gestionale per occuparsi proprio di un'attività personale dal punto di vista proprio imprenditoriale su questo mondo, sul mondo dei cambiamenti climatici legati alla tecnologia, legati alla creazione di processi per andare a creare appunto dei sistemi che andassero a mitigare un po' quello che potrebbe essere l'influsso negativo di un cambiamento climatico. Quindi abbiamo affidato a lui più che altro la gestione di questo prodotto avendo un'esperienza di tipo gestionale importante e avendo tuttora anche un'attività imprenditoriale legata a questo mondo e quindi una conoscenza tutto tondo. Quindi noi gestiamo in maniera globale questo tema andando ad investire in poche società molto concentrate perché per noi in questo caso, non in generale, ma in questo caso premi ad essere concettati su alcune società proprio date dalla conoscenza, dall'analisi che facciamo ovviamente su questo settore che si affacciano più che altro all'aspetto tecnologico, nel senso che noi crediamo che la tecnologia per quanto riguarda il cambiamento climatico avrà un ruolo fondamentale anche nel futuro. Prima si chiedeva anche se può essere un megatrende negli anni. crediamo che certamente sarà così perché è un miglioramento che non può avvenire in poco tempo ma è proprio un cambio delle abitudini, un cambio anche dei processi, dei sistemi e delle tecnologie usate abitualmente per andare a migliorare quella che è la situazione climatica e quella che è la situazione negativa che può impattare a livello globale. Quindi la nostra attenzione è innanzitutto su un aspetto ESG, la seconda è trovare quelle società che stanno effettivamente creando qualcosa di nuovo. La difficoltà forte in questi nuovi temi è che raramente si può fare affidamento su quello che è un'esperienza passata ma bisogna avere molta lungimiranza dal punto di vista del riconoscimento di quelli che saranno i trend che maggiormente prenderanno piede e soprattutto quello che crediamo noi sia fondamentale ovvero il riconoscimento di quelli che sono i nuovi leader di mercato. Sicuramente il nostro approccio da questo punto di vista non è un approccio che si basa molto su quello che può essere una frequente turnover di portafoglio cioè un giro di portafoglio, una scelta di titoli che vengono variati perché crediamo che questo genere di soluzioni subisca una volatilità non troppo legata a quello che è l'andamento finanziario dei titoli sottostanti ma quanto più a eventi politici, a eventi sociali e quindi questo è difficilmente preventivabile quindi preferiamo avere dei posizionamenti più lunghi ed accompagnare queste società che sicuramente potranno avere magari successo e beneficio da questa fase di miglioramento negli anni quindi questo è un po' il nostro approccio che riteniamo possa essere vincente proprio su questo tema. Vorrei focalizzarvi un attimo sul lusso infatti dottor Arrighi torno naturalmente da lei quali sono stati i cambiamenti che hanno influenzato il settore del lusso e come evolveranno soprattutto la domanda e l'offerta nei prossimi anni? è un tema e un trend sicuramente molto interessante in quanto è una nuova lettura trasversale della crescita economica ma anche dell'orientamento dei consumi come dicevamo prima sicuramente ci sono due motori molto importanti da una parte i millennials e le generazioni Z quindi le nuove generazioni che sono più propense al consumo e meno al risparmio da un'altra parte c'è l'emergenza della classe media nei paesi emergenti in particolare nel sud-est asiatico e due trasformazioni importanti da una parte l'approccio digitale per cui la pandemia e il lockdown hanno boostato hanno accelerato in modo esponenziale i processi di cambiamento del settore obbligando le aziende e i brand a orientarsi in modo massiccio verso l'online e verso le piattaforme di vendita digitali dall'altra parte sicuramente l'approccio di sostenibilità dove l'attenzione, la cura che oggi i nuovi acquirenti quindi i giovani portano al rispetto diciamo di processi di fabbricazioni sostenibili stanno rivoluzionando il settore l'altro aspetto sicuramente fondamentale è che abbiamo da un lato i produttori che sono prevalentemente occidentali e quindi sottoposti a vigilanza, regolamentazione e processi qualitativi molto stringenti dall'altra parte il mondo emergente in particolare il sud-est asiatico che rappresentano oltre la metà dei consumatori e che sono molto propensi a replicare lo stile di vita occidentale attraverso dei simboli che sono rappresentati nel mondo del lusso ovviamente il lusso è cambiato perché prima si faceva riferimento all'alta moda l'alta gioelleria e l'alta orologeria oggi è un mercato assolutamente molto più legato ai consumi diciamo quotidiani in quanto è subentrata la cosmesi la cura della persona la tecnologia in particolare tutta la parte audio con dei titoli come Sonos per esempio che è un concorrente di Bose le piattaforme digitali di vendita online che hanno sostituito gli store fisici la limitazione del turismo di lusso dove gli asiatici venivano in occidente perché i prezzi erano più bassi e quindi si associava lo spostamento il viaggio all'acquisto nel mondo in particolare in Europa e infine tutto il mondo della distilleria tutto il mondo degli alcolici pregiati che di fatto oggi creano una rosa molto più ampia di un tema che avrà sempre più già un motore di crescita qualitativi perché si compra meno ma si compra meglio si sta attenti alla sostenibilità si usano i social e si usa la globalizzazione come veicolo di modelli e di fenomeni legati al tema del lusso Sandrine torno subito da lei perché naturalmente vorrei parlare anche dell'energia sostenibile che tra l'altro è un tema sempre più attuale e importante proprio su questo tema Ligale in generale ha lanciato una nuova strategia focalizzata sull'idrogeno quali sono le prospettive in questo particolare comparto a suo avviso soprattutto nel medio e lungo termine? Certo ma poi il lancio dell'idrogeno è stato per noi un passo importante perché a nostro parere sarà una delle componenti fondamentali per l'energia per il mercato delle energie rinnovabili come Ligale in generale cerchiamo sempre un po' di essere pionieri come abbiamo lanciato nel 2018 il primo ETF sulle batterie che va a riprendere un po' questo tema appunto delle rinnovabili così quest'anno abbiamo deciso di puntare sulla componente idrogeno poi sicuramente arriveranno altri player per prendere un po' posizioni anche su questi temi delle rinnovabili un po' più laterali ma l'idrogeno è importante per alcuni aspetti il primo di tutto è dato dal fatto che in questo momento con la Next Generation EU ci sono dei fondi disponibili 750 miliardi di Euro per la decarbonizzazione dell'economia e la componente dell'idrogeno è una parte fondamentale di questo progetto tant'è che l'Unione Europea pensa che provvede in realtà tra il 2025 e il 2030 una serie di progetti per fare diventare un po' l'idrogeno una componente fondamentale del sistema delle rinnovabili con una produzione fino a 10 milioni di tonnellate di idrogeno tenete conto che ad oggi nel mondo vengono prodotte circa 70 milioni di tonnellate i 10 milioni di tonnellate cui fa riferimento all'Unione Europea sono di quello che viene chiamato idrogeno verde perché queste 70 milioni sono fondamentalmente quasi tutti fatti da idrogeno grigio quindi idrogeno fatto tramite largo consumo di CO2 quindi fare l'idrogeno verde vuol dire utilizzare sostanzialmente gli elettrolizzatori che sono delle forme di tecnologia nuove che consentono appunto di trasformare dall'acqua a ricavare poi l'ossigeno e l'idrogeno quindi questo è un aspetto importante per quanto riguarda l'economia dei rinnovabili perché poi l'idrogeno stesso rappresenta una forma di storage quindi di conservazione delle rinnovabili si chiama appunto l'idrogeno verde perché l'energia elettrica utilizzata per scomporre appunto l'acqua in ossigeno e idrogeno deve venire da forme di rinnovabili quindi dal solare e dall'eolico sostanzialmente quindi è tutta questa catena del valore delle rinnovabili nella quale l'idrogeno ha uno ruolo fondamentale non dimentichiamoci infine che come vi dicevo già oggi l'idrogeno viene prodotto e viene utilizzato in tantissimi ambiti in particolare anche sulla parte dei fertilizzanti ma sempre di più anche sulla parte dell'industria del metallo per la creazione dell'acciaio per il vetro quindi mano a mano che avremo un idrogeno verde con un prezzo più basso e la carbon tax dall'altra parte dell'Unione Europea renderà antieconomico la creazione di idrogeno grigio ci sarà una forte crescita in questo ambito e per noi quando guardiamo l'economia dell'idrogeno è necessario guardare l'intera filiera produttiva quindi chi produttore di cella combustibile che sono quelli che trasformano l'idrogeno in corrente elettrica ad esempio nei mezzi di trasporto in particolare magari autobus navi che sono quelli dove ha più senso l'utilizzo ad esempio dell'idrogeno gli elettrolizzatori per la creazione dell'idrogeno ma anche tutti poi quelli che sono le società di utility che producono l'idrogeno un po' anche tutte quelle società e quegli operatori che fanno parte della catena di fornitura integrata quindi vanno dalla produzione allo stoccaggio alla distribuzione come ad esempio l'inde o arlechid quindi per noi è un momento interessante per guardare l'idrogeno proprio perché sarà un po' lo spunto dei prossimi anni per la spinta verso questa green economy europea ma non solo ok intanto torno velocemente da Braganti se vorrebbe aggiungere qualcosa che crede sia importante per quanto concerne l'ITF lo faccia pure ma soprattutto in tre punti quali potranno essere gli sviluppi dell'approccio tematico nei prossimi cinque anni Braganti ci sente? grazie ok adesso la sentiamo prego grazie mille allora direi che per tornare e fare riferimento anche alla nostra gamma di prodotti noi crediamo una forte concentrazione delle esigenze di intelligenza artificiale e cyber security è una necessità che è stata crescente negli ultimi anni e ha subito una forte accelerazione in epoca di pandemia le aziende si ritrovano nella necessità di mettere in sicurezza i propri sistemi i sistemi al proprio interno di trovare personale specializzato e lo fanno con sempre maggiore difficoltà e sottoposta alla pressione crescente delle necessità a trovare personale appunto qualificato a integrare la moltitudine di applicazioni che sono necessarie in un'azienda moderna e mettere anche in sicurezza i propri dipendenti i propri dati aziendali e la propria clientela ecco questo io ritengo sia uno di quei megatrend a cui è molto opportuno dare una risposta sapere fronteggiare ecco perché noi abbiamo integrato in gamma due prodotti che alla fine rappresentano due aspetti della stessa questione cioè l'integrazione con l'intelligenza artificiale dei sistemi di sicurezza per l'azienda stessa e per l'utilizzatore dei propri servizi noi crediamo che individuare le aziende che meglio come dire corrispondono a questa a queste esigenze individuarle in uno stato nascente del proprio sviluppo ci esponga ed esponga la nostra clientela a uno straordinario potenziale di apprezzamento di rivalutazione del tempo ok le volevo appunto chiedere se vorrebbe aggiungere qualcosa per quanto concerne gli sviluppi dell'approccio tematico nei prossimi cinque anni l'approccio tematico l'hanno già sottolineato anche i miei colleghi è l'evoluzione naturale dell'approccio settoriale e discente diciamo da necessità non solo economiche pratiche tecnologiche ma anche etiche lo si è visto anche nell'approccio che l'Unione Europea ha avuto recentemente sul tema del recovery fund cioè di ciò sul quale è opportuno investire per favorire e accelerare il recupero economico nell'area europea ed è appunto la transazione digitale la riduzione dell'impatto ecologico del futuro sviluppo economico in modo che sia di minore impatto ambientale possibile e poi il tema dell'integrazione l'integrazione diciamo e la globalizzazione dell'informazione viene senz'altro favorito dall'utilizzo di sempre più applicative che fanno cadere diciamo le barriere geografiche favorendo senz'altro l'utilizzo di strumenti di informazione che determinano anche la possibilità naturale di investire a livello globale la tecnologia è di grande rilevanza anche per il futuro dei mercati finanziari io penso che le banche si trovino al al cospetto di una straordinaria rivoluzione che le potrà premiare solo se attraverso l'utilizzo della tecnologia potranno rendere agevolmente dei servizi a costi ridotti alla più vasta moltitudine di persone Saltarella io credo che la cosa particolarmente complessa ma la sfida più grande sarà quella che porterà ovviamente all'evoluzione del settore tematico sarà la capacità degli analisti e degli addetti ai lavori di individuare i nuovi trend che guideranno il futuro perché stiamo parlando di un qualche cosa che diventa sempre meno settoriale sempre più tematico quindi sempre più allargato e la capacità appunto di trovare tutte le filiere e tutte le varie sfaccettature che possono avere i singoli temi dà sicuramente maggiore interesse a ciascun tipo di evoluzione quindi il primo termine che mi verrebbe in mente è la visione cioè servono sempre meno probabilmente sempre meno tecnici specializzati su una singola cosa e sempre più magari chiamiamoli visionari chiamiamoli persone che hanno la capacità di analizzare il mercato su quello che sarà l'evoluzione dei singoli quindi momenti l'altra cosa credo che sarà un mercato fortemente disruptive e quindi ci sarà una forte diversità tra chi tra l'individuazione dei leader di mercato quindi la conoscenza di questi settori sarà fondamentale io mi accorgo che gli analisti che lavorano da noi sono sempre più specializzati su quello che sono queste tematiche sono addirittura in grado di parlare con gli addetti ai lavori alla pari quasi quindi hanno una conoscenza che va bene al di là dell'aspetto puramente finanziario ma è una conoscenza proprio tecnica e grazie a questa conoscenza si può fare una selezione forte la selezione forte credo che su temi che ti possono dare chiaramente un valore aggiunto importante sul mercato sia il secondo tema che dovrà essere sempre più come dire enfatizzato e migliorato in questo settore e il terzo credo che sia un approccio un pochino diverso da quello da quello che è il timing di mercato la ricerca di un market timing esasperato piuttosto che di temi che si rincorrono perché i temi che andiamo a selezionare e scegliere credo un po' tutti insedendo anche i colleghi sono temi di lungo periodo sicuramente di lungo periodo che non si esaureranno in un anno o in due anni e quindi le scelte di sostegno a tutte quelle aziende che noi reputiamo possano essere vincenti in questo ambito devono essere di pari periodo perché ovviamente solo il garantire sostegno di un progetto nel medio lungo periodo gli permette di trarre tutto il beneficio possibile da quello che è la sua ottica nel caso in cui invece si cadesse vittime di quello che può essere una liquidità esasperata è chiaro che tutti questi progetti verrebbero a mancare quindi credo che riepilogando la visione la disruption sicuramente la perseveranza di investimento possano essere i tre temi che caratterizzano lo sviluppo anche di questi settori nei prossimi cinque anni Arrighi lei è d'accordo? Sì penso che ritroviamo quasi tutti un po' la stessa sensibilità e percezione del grande cambiamento che è in atto nel nostro settore a livello di economia reale e quindi di come i mercati finanziari seguono questi cambiamenti sicuramente il tema della sostenibilità o quantomeno dell'analisi extra finanziaria alla ricerca di una valorizzazione dei comportamenti più etici e più sostenibili delle aziende che sono leader dei propri settori nell'ambito tematico sicuramente l'approccio qualitativo e quindi sia nei processi produttivi ma anche nella finalizzazione dei prodotti che vengono poi messi sul mercato un altro aspetto sicuramente importante è la trasversalità anche della domanda quindi oggi un punto importante che è cambiato che non si va più tanto a guardare dove è quotata o dove è domiciliata l'azienda che ci interessa sulla quale possiamo avere un approccio anche tematico ma di vedere qual è il suo mercato reale quindi paradossalmente prima si aveva una visione molto più ristretta e molto più diciamo limitata dell'orizzonte cioè dell'obiettivo di investimento mi viene in mente due paesi abbastanza rappresentativi di questo cambio strutturale quando si pensa alla Svizzera si pensa solo al cioccolato alle mucche alle farmaceutiche e alle banche in realtà sì anche gli orologi ovviamente perché per nostra passione ma alla fine oggi come? era giusto aggiungere gli orologi ecco sì sì il collega mi ha fatto accenno scherzosamente però oggi la Svizzera è uno dei principali paesi a livello qualitativo come fornitore di settori di altissima punta di altissima expertise che sono ovviamente basati in tutto il mondo la stessa cosa per il Giappone tutti pensano a Giappone a deflazione vent'anni di deflazione è paese iper tradizionalista in realtà il Giappone visto che ne parlevamo prima è uno dei primi produttori al mondo di motori elettrici fa parte ha come primi player e clienti la Cina il sudest asiatico è uno dei massimi produttori di robotica nell'ambito industriale quindi l'approccio tematico è proprio questa come diceva il collega questo scardinare la disruption dell'approccio agli investimenti tradizionali allargando la mente allargando la ricerca e focalizzando sulla qualità Sandrine vogliamo sentire anche la sua opinione sì concordo con i colleghi anche quanto diceva prima saltarella della specializzazione diventa sicuramente importante avere una specializzazione di chi si occupa anche della costruzione di questi prodotti io penso che da un lato continueremo a vedere la nascita di nuovi temi singoli ma al tempo stesso incomincieremo anche a vedere un po' un'aggregazione di temi che magari seguono lo stesso filone che può essere magari uno demografico piuttosto che legato alle tecnologie piuttosto che alle rinnovabili e quant'altro e visto che abbiamo parlato anche molto di sostenibilità sentendo un po' anche il polso di quelle che sono la parte anche di distribuzione in generale le domande che ci arrivano a mio parere proprio in questo ambito della sostenibilità ci sarà una nascita ulteriore di prodotti io parlo anche un po' della parte ETF ma non penso che sarà solo questa collegati ad esempio agli obiettivi delle Nazioni Unite quindi SDG target se vogliamo chiamarli con degli specifici obiettivi da raggiungere e per quanto riguarda un po' poi l'industria che rappresento sarà sempre più una maggior sofisticazione anche nella costruzione degli indici per valutare un po' queste società noi stessi giusto per ricollegarmi a quello che diceva prima Saltarella non essendo noi esperti dei singoli settori ci rivolgiamo ad i consulenti esterni i consulenti industriali perché è necessario conoscere nell'esattezza il tema ma questo tema che molto spesso ha delle logiche molto specifiche da un punto di vista anche tecnologico quindi sono necessarie delle competenze tecniche molto evolute assolutamente sì Braganti torno naturalmente da lei perché oggi le strategie di investimento tematiche riscuotono tanto successo naturalmente lei ci spieghi dal suo punto di vista le strategie tematiche che centrano la fantasia e il desiderio di novità di molti investitori e la patria degli investitori è diventata sempre più sofisticata per certi versi i portafogli sono globali le scelte di asset allocation sono sempre più spinte nel senso nella ricerca del bilanciamento dell'anticiclicità e anche della disincronia delle performance siamo in un mondo che tanto per cominciare è orfano di rendimenti sulla componente a reddito fisso e dove la ricerca di tematiche globali di investimento determina anche scelte geografiche e di esposizione valutaria che un tempo non erano contemplate l'investimento tematico in un certo senso è lo sweet spot di un asset allocation perché dà più spazio alla fantasia e alle aspirazioni e agli ideali dell'investitore e anche del cliente finale chiunque di noi vuole partecipare ad un trend evolutivo che si suppone sia sul nascere che possa determinare in prospettiva uno sviluppo straordinario in termini dimensionali determinando dando luogo ritorni economici rilevanti e che magari contribuisca anche ad un miglioramento qualitativo dello sfruttamento delle risorse del pianeta aiuti a costruire un mondo migliore più integrato e più come dire che dà più possibilità di partecipazione a chi un tempo era per questioni geografiche o di condizione economica svantaggiato l'investimento tematico se c'entra la fantasia e le aspirazioni anche un po' ideali degli investitori destinati a uno sviluppo straordinario a mio giudizio siamo solo all'inizio sempre più proposte di investimento strumenti di investimento prescinderanno da criteri tradizionali di scelta come quelli settoriali o come quelli geografici e potranno invece dar più spazio alla fantasia nell'interpretare in linea preventiva quali sono gli ambiti più sostenibili più inclusivi e più come dire potenzialmente moltiplicativi dell'investimento iniziale Saltarella lei è d'accordo? Sì assolutamente credo che il successo e quando si parla di successo lo penso sempre come un fenomeno di massa quindi a quale si come dire avvicinano in tanti e quindi ovviamente non ci può essere un'unica ragione ma sicuramente l'aspetto emozionale il tema ha una caratteristica una connotazione emozionale molto di più del settore in sé nel senso che il settore è poi uno strumento del tema quindi l'avere determinate visioni su quello che è il cambiamento climatico su quello che sono magari appunto come si diceva prima i millennials quindi un target di clientela piuttosto che la new era il nuovo mondo post covid o quant'altro sono tutte situazioni che chiaramente evocano una come dire un'emotività che il singolo settore non ha poi al di sotto troviamo i consueti settori le solite le aziende che possono essere chiaramente forse più assettiche dal punto di vista emozionale ma che poi fanno parte ovviamente dell'investimento credo che sia questo un po' la chiave di successo e quindi sarà anche lo vediamo anche dalle presentazioni delle soluzioni che nascono quotidianamente si punta molto su quello che è l'aspetto di impatto emotivo nella presentazione e credo che questo sia fondamentale perché anche dà una tangibilità all'investimento spesso l'investimento finanziario è stato negli anni passati un qualche cosa di molto tangibile forse di poco concreto nell'immediato poi ovviamente aveva un sottostante concreto ma per il singolo investitore avere un qualche cosa che abbina la parte emotiva a un qualche cosa che vede si vede intorno vede un cambiamento effettivamente è sicuramente motivo di interesse e dice se devo mettere di soldi ci credo in questo nuovo percorso ci sono anche delle motivazioni come dire di contesto molto forti perché comunque le istituzioni stanno facendo grossi investimenti in tal senso e quindi chiaramente l'insieme di tutto questo ha portato ad un'esplosione un'attenzione particolare presso tutto questo mondo tolgo da tutto questo gruppo anche la categoria ISG nel senso che ISG ormai come avete visto molto probabilmente abbiamo parlato tutti di soluzioni ISG compliant però non l'abbiamo neanche specificato più di tanto perché ormai è diventato quasi una situazione obbligatoria tutti quanti noi stiamo creando soluzioni di questo tipo quindi evidentemente anche questo forse è già entrato nell'utilizzo comune di questo ma siamo sicuramente anche in evoluzione da questo punto di vista abbiamo legato la parte emotiva a quella che è strutturale quella che è di strumenti Arrighi sì credo che effettivamente il successo degli investimenti tematici sta proprio nella vicinanza con l'investitore lo stiamo dicendo un po' tutti quindi la capacità di avere uno storytelling la capacità di avere un coinvolgimento di massa il fatto che comunque oggi l'accesso al risparmio è diventato molto più sociale basta pensare che durante la pandemia in America sono stati chiusi le scommesse le sale bingo e quindi la gente è rimasta in casa cosa ha fatto si sono sono triplicati il numero di iscritti nelle piattaforme di trading online quindi automaticamente la gente è andata a scommettere sulle borse e il sud-est asiatico è un paese che sono popolazioni di grandi scommettitori di grandi giocatori sono tutte cosa vanno a cercare vanno a cercare la storia vanno a cercare quei temi che sentono più vicini che sentono più popolari c'è una ricerca di leadership delle aziende e quindi tutti comprano gli stessi titoli tutti vanno un po' a fare questi movimenti che il mercato trasmette in termini di visibilità in termini di mediatizzazione e i social sono sicuramente degli strumenti molto forti per i veicolari i temi che oggi sono un po' sulla bocca di tutti quindi sicuramente la capacità e la velocità di trasmissione di comunicazione la vicinanza con il risparmiatore dei nuovi temi fa sì che vanno di moda e oggi si legge il mercato in questo modo e meno come lo si faceva in modo tradizionale sull'area geografica o sul singolo settore e sentiamo naturalmente anche Giancarlo Sandrin sì non voglio ripetermi su quello che hanno già detto i colleghi che mi sembra assolutamente sensato vorrei giusto aggiungere un paio di aspetti l'inserimento di questi tematici in una componente azionaria di un portafoglio ben diversificato in realtà va a migliorare molto il profilo anche di rischio rendimento perché spesso si pensa a questi temi come dei temi che sono delle molle in positivo e in negativo dove si compra soltanto volatilità invece se guardiamo quello che è successo negli ultimi anni vediamo delle cose veramente interessanti anche dal punto di vista della volatilità di come possa migliorare il profilo di un portafoglio ben diversificato azionario e obbligazionario con queste componenti l'ultimo aspetto adesso non voglio finire su un campo minato però è il discorso delle valutazioni si comincia a parlare di tutto quello che è il tema del value investing assolutamente interessante il value investing rispetto a tutto il discorso delle tematiche da capire poi se le valutazioni di alcune aziende ovviamente non faccio una generalizzazione siano delle valutazioni piuttosto basse perché effettivamente sono business che in un'ottica futura con questi cambiamenti in atto hanno poca capacità di crescita e di sopravvivenza e quindi magari guardare anche alle valutazioni di alcuni temi sempre con un po' di senso pratico può dare una visione un po' diversa anche dal punto di vista di valutazione quindi non limitiamoci a dire a un price earning di un titolo rispetto all'altro la storia è un po' più complessa specialmente su questi trend che sono anche trend un po' di molti anni grazie mille allora vuol dire che ci aggiorneremo durante la prossima week tematica naturalmente di Le Fonti TV giusto? assolutamente volentieri grazie intanto ringrazio i nostri panelist Alessandro Arrighi di GAM Italia Diego Saltarella di Kairos Giancarlo Sandrin Country Head Legal in General e naturalmente Pier Giacomo Bragandi di Wisdom Tree grazie mille per essere stati con noi buon proseguimento alla prossima grazie allora intanto noi ci prendiamo esattamente 5 minuti di pausa obbligitaria però rimanete con noi perché segue Rush Hour e non solo l'apertura di Wall Street abbiamo visto appena il dati macro l'indice dei prezzi al consumo aumentati dello 0,6% mese su mese e del 2,6% anno su anno rimanete con noi per vedere l'apertura di Wall Street a tra poco grazie a tutti